Giuseppe Ieta, sindaco di Cefraro, Cosenza. Vi dico subito che io non sono del PD, sono socialista da tre generazioni, ma riconosco in Matteo Renzi la leadership del centro-sinistra e siccome io sono interessato al centro-sinistra sono qui quest'anno e ci sono stato l'anno scorso al Big Bang. Io parlo di sud perché vengo dal sud, vengo dalla Calabria, sono sindaco di una città di mare dove c'è il porto più importante a Salerno a Reggio Calabria e faccio l'assessore provinciale all'ambiente della provincia di Cosenza con una internità, lo dico subito per evitare che qualcuno su questo ironizzi. Io sono venuto l'anno scorso al Big Bang, ho seguito Matteo, ho seguito il suo percorso, nessuno ci credeva, si pensava ad una bolla mediatica, eppure oggi siamo qui a osannare il nuovo leader del centro-sinistra. Mi hanno chiesto se sul carro dei vincitori si è salita molta gente, beh è salita molta gente, ha ragion veduta, hanno fatto bene a salire, oggi si tratta di spingere quel carro e per noi sindaci che oggi avvertiamo qui ed ora meno solitudine, meno isolamento istituzionale perché ieri è stata una serata di esaltazione per noi, abbiamo discusso delle cose che facciamo, al Big Bang dietro di noi giganteggiavano le foto delle nostre buone prassi, delle cose che abbiamo realizzato, delle nostre fatiche, delle nostre insicurezze, delle nostre amarezze e dei nostri sogni. Matteo ci ha fatto sperare perché è un sindaco come noi, fatto di carne ed ossa, un sindaco che parla con gli altri amministratori locali, con gli 8 mila e più amministratori locali che oggi sono qui e attendono risposte e però dall'agenda politica, lo dico a Matteo, non deve sparire il sud, attenzione e non con le solite categorie dell'assistenzialismo e della cassa per il mezzogiorno, ma il sud come risorsa, il sud come giovani talenti, il sud come università e invito Matteo a visitare l'università della Calabria, l'università di Cosenza che è tra le migliori università d'Italia perché anche lì abbiamo necessità di avere sostegno, di non sentirci soli, di non sentirci irretiti dalla solita politica del clientelismo, della pacca sulla spalla, dell'abbraccio, del sorriso, no, ci sono buone prassi in Calabria, oggi qui ci sono buoni amministratori calabresi e io credo che insieme a Matteo, insieme al suo team, insieme a voi, soprattutto insieme a voi, noi possiamo dare una speranza all'Italia. Noi meridionali avvertiamo lontani i palazzi di Roma, li avvertiamo lontani perché non riusciamo a interloquire, a comunicare, avvertiamo la difficoltà dei nostri comuni, avvertiamo la difficoltà di una presenza che per noi è un cancro, che è l'andrangheta, che blocca lo sviluppo delle nostre comunità e che credo Matteo debba affrontare come tema. Io vi ricordo solo due nomi che non vanno dimenticati perché la politica è anche memoria, non solo identità, ma anche memoria. Giovanni Losardo, ucciso negli anni Ottanta, ed Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Acciaroli che spesso noi dimentichiamo. Ecco, con questo spirito io ho affrontato 700 chilometri, con questo spirito sono venuto a Firenze, con questo spirito ritorno nella mia Calabria sicuro che la leadership di Matteo Renzi restituirà a noi amministratori vinti dalla rassegnazione un po' di speranza e un po' di entusiasmo. Auguri.